La morte del pensionato 67enne di Chioggia è stata provocata dal 26enne Andrè Morana che col suo schiaffo violento l'ha fatto cadere non lasciandogli scampo. Paolo Marangon si è spezzato la nuca, l'ha rivelato l'autopsia effettuata sul suo corpo spentosi lunedì scorso all'ospedale di Mestre a due giorni dall'aggressione in via Alga. Marangon aveva ancora il segno sul labbro superiore da quanto forte è stato lo schiaffo di Morana. Un quadro che confermerebbe anche l'accusa di omicidio preter intenzionale mossa al ragazzo che al momento è ancora libero, decisione che sta facendo molto discutere. Intanto la procura ha dato il nulla osta ai familiari di Marangon per fissare i funerali che si terranno domani alle 14.30 nella chiesa di Corbanese di Tarzo in provincia di Treviso. Tutto è nato da una sciocchezza. Era sabato sera, lo scorso 10 dicembre. Il 67enne era andato a prendere un'amica per andare a mangiare una pizza. Ha urtato il braccio di Morana che ostruiva il passaggio, scatenando la sua furia e la sua reazione. Poi la corsa in ospedale, ma Marangon non si è più ripreso.